Giro d'Italia, spettacolo rosa al traguardo di Fano, vince Alaphilippe. Verso le elezioni, visita a Pesaro del leader 5 stelle Giuseppe Conte. Tappa Pesaro anche per Salvini che punta sulla crescita infrastrutturale delle marche. Mitigazione rischio alluvioni, la regione varà piano da 130 milioni di euro. Università e lavoro ad Urbino, il Career Day di primavera. Una buona serata a tutti voi, pubblico di Rossini TV, ben ritrovati al nostro spazio informativo serale di Rossini News. Telegiornale di giovedì 16 maggio, che questa sera apriamo in rosa, colore inconfondibile del Giro d'Italia, è che questo pomeriggio è arrivato nella provincia pesarese e in particolare a Fano, traguardo della dodicesima tappa della partita mattinata dall'abruzzese Martin Sicuro, in un percorso da 193 chilometri che ha toccato tutte le province marchigiane. Nel Pesarese è stato uno spettacolo in rosa, con tantissimi appassionati, sulle strade da Mondolfo a San Costanzo, fino al traguardo di Fano, in un percorso che ha toccato periferie, collina, accinto al centro storico, porto e mare, fino al traguardo di Viale 12 Settembre, dove è arrivato davanti a tutti in solitaria il francese Julien Alaphilippe. Il due volte campione del mondo su strada è stato protagonista di strappi e fughe con maestri, regalando al pubblico fanese sulla salita del Monte Giove l'allungo decisivo incolmabile per una vittoria in solitaria. A completare il podio, Afano, Narvaez ed Hermans. La maglia rosa Pogacar resta tale anche Afano, arrivata col gruppo con 5 minuti e mezzo di ritardo. E quello di Erdo non è stato solo il pomeriggio del Giro d'Italia, ma è stata anche una giornata di concomitanze di leader politici nazionali, perché a Pesaro erano presenti a poche ore di distanza sia il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sia il segretario della Lega, nonché ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini. Partiamo in ordine cronologico di apparizione e lo facciamo proprio dall'ex presidente del Consiglio Conte, ospitato dai pentastellati regionali a Palazzo Gradari. L'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha fatto tappa a Pesaro, dove ha visitato la città assieme ai candidati in corsa per le europee e le amministrative di giugno della provincia di Pesaro e Urbino, un'occasione che Giuseppe Conte ha colto anche per visitare i luoghi simbolo della città, da Casa Rossini ai musei civici, per poi fare tappa a Palazzo Gradari, dove l'ex premier ha affrontato vari temi, a partire da quello delle europee e della futura coalizione nella quale il Movimento 5 Stelle andrà ad inserirsi. Avremo un gruppo di europarlamentari che saranno determinati per una svolta verso la pace, per contrastare la corruzione, l'abbiamo vista anche in Europa con il Qatargate e altri scandali, per completare e continuare una transizione verde, senza costi ovviamente, finanziando e limitando l'impatto quindi su famiglie e imprese. E ovviamente vogliamo un'Europa anche contro l'austerity e un'Europa per riconoscire a tutti, pieni diritti e soprattutto dobbiamo adesso tutelare gli organi informazionali, libertà di stampa a qualsiasi livello. Giuseppe Conte ha poi aperto una parentesi sulla città di Pesaro e sul Movimento 5 Stelle pesarese, che nel 2019, con l'accordo di alleanza siglato tra il sindaco di Pesaro Ricci e l'assessore 5 Stelle Frenquellucci ha anticipato i tempi di quella che poi è la grande alleanza del centro-sinistra sul panorama nazionale. Qui è stata anticipata una traiettoria, c'è un'esperienza amministrativa dove noi abbiamo portato dei risultati di cui siamo orgogliosi, su vari progetti ovviamente in linea con la nostra sensibilità, trasparenza, la possibilità di coinvolgere i cittadini in progetti utili, curare anche l'aspetto della transizione, sostenibilità ambientale, abbiamo promosso varie iniziative in campo culturale e dell'innovazione. Quello che è importante è proseguire questo dialogo ovviamente con rispetto reciproco della pari dignità e la possibilità ovviamente di approfondirlo perché se ragioniamo poi in vista anche di una prospettiva nazionale dobbiamo costruire una forte alternativa alla destra ed essere competitivi. Per fare questo occorre riempire un progetto di contenuti e non dire semplicemente l'unità, unità, stiamo insieme. Per fare cosa? Da Pesaro arriva poi anche la replica dell'ex premier Conte in merito alla via libera per quanto riguarda la fiducia al super bonus arrivato da parte del Senato. Evidentemente il governo vuole mascherare i propri fallimenti, quindi si aggrappa al super bonus, tra l'altro litigando internamente come ben noto, però non ten conto dei danni che fa a famiglie e imprese, ancora una volta, ma ormai è una costante, pensiamo agli extra profitti, anche lì non si ten conto del fatto che sono famiglie, imprese in difficoltà, c'è stato un carro mutui, addirittura molte case vanno all'asta e il governo riesce a prendere un euro dalle banche. E come detto quasi in simultanea a Conte, più o meno a un chilometro di distanza, era presente Matteo Salvini al Charlie Urban Hotel. Il ministro delle infrastrutture nonché segretario della Lega ha presentato il suo ultimo libro e ha toccato diversi temi in prospettiva elettorale. Matteo Salvini fa tappa a Pesaro presso l'hotel Charlie in Viale Trieste con un incontro dove, oltre a presentare il suo nuovo libro Controvento, coglie l'occasione per esprimere il suo sostegno ai candidati della Lega in corsa per l'Europa e per le amministrative del territorio, così come al candidato del centrodestra peserese Marco Lanzi e al leghista Ser Filippi Nellafanese. C'è voglia, molti ci riconoscono che sull'Europa siamo fra gli unici ad avere le idee chiare sul tema della sicurezza del contratto all'immigrazione clandestina, sulla difesa delle auto, delle case degli italiani, sul no assoluto all'ipotesi di von der Leyen, di alleanze con Macron, con i socialisti, con la sinistra. Conto che miglioreremo il risultato delle politiche del 2022 e nelle marche conto che avremo diversi nuovi sindaci. Penso al sindaco di Fano, a Luca Serfilippi in Gambissima e penso al fatto che ad Ascoli, oltre che a rivincere come centrodestra, puntiamo a essere il primo partito. Pesaro è una battaglia impegnativa, però noi non diamo mai nulla per perso e quindi io penso che il cambiamento arriverà prima o poi anche a Pesaro, magari è la volta buona. Il ministro delle infrastrutture poi si addentra nel panorama delle opere marchigiane per la viabilità, a partire dall'arretramento della ferrovia fino alla Guinza, passando per la A14. Finalmente le ferrovie ci stanno lavorando, ci sono diverse ipotesi progettuali, ho dato questo mandato, questa indicazione, lavorandoci insieme ai territori perché in passato ci sono state polemiche anche all'interno del territorio marchigiano, fra sindaci, fra comuni, fra realtà locali, io penso che sia fondamentale, sia un intervento costoso ma assolutamente doveroso e utile e a breve arriveranno diverse ipotesi progettuali su cui lavoreremo, ripeto con i sindaci e su cui sceglieremo. È tanti anni che se ne parla, conto di mettere nero su bianco un progetto così come da tanti anni si parlava della Guinza, adesso conto che non fra qualche mese ma fra qualche giorno vengano consegnati alla ditta i lavori e quindi si parta perché le Marche sono un territorio stupendo ma fragile, sia nell'interno che lungo la costa. Una parentesi viene aperta anche su come collegare alla meglio Pesaro e Urbino, toccando anche i temi che riguardano l'entroterra ma soprattutto la costa, con una Bolkestein sempre più imminente. È uno dei dossier che con Mirko Carloni stiamo portando avanti, così come c'è il tema della costa di cui lei parlava e quindi il tema di assoluta attualità della Bolkestein, dei balneari, della tutela del lavoro dei balneari, della proposta di prelazione in caso di gare per chi gestisce le spiagge, soprattutto per imprese familiari, quindi sono fiducioso. Esattamente un anno fa, il 16 maggio del 2023, si verificò l'alluvione che sconvolse l'Emilia-Romagna causando 17 vittime ma che creò danni importanti anche nella provincia di Pesaro-Urbino. In questo servizio ricordiamo quanto avvenne un anno fa e il punto della situazione nel nostro territorio a 12 mesi di distanza. 16 maggio 2023, 16 maggio 2024. È passato un anno dall'evento alluvionale che si accanì sull'Emilia-Romagna in una tragedia che causò 17 vittime. Un'alluvione che ebbe la sua coda di devastazione anche nella provincia di Pesaro-Urbino contando decine di milioni di danni materiali. Fu un 16 maggio di pioggia violenta, troppa per essere contenuta da strade sotto passaggi trasformati in torrenti e laghi. E poi il Genica che si gonfiò a dismisura finendo per esondare. Il tutto, aggravato da frane e smottamenti nelle aree collinari e a pagare pegno furono abitazioni con alcune evacuazioni ma soprattutto aziende e siti produttivi con danni ingenti. La ricognizione della protezione civile nazionale sulle strade portò a stilare quel rapporto che indusse il governo ad emanare lo stato d'emergenza in un percorso diverso da quello romagnolo e nel pesarese circoscritto per sette comuni. Appunto quelli di Pesaro, Fano, Urbino, Gabiccemare, Monte Labate, Monte Grimano Terme e Sasso Corvaro Auditore. Stato di emergenza che proprio nel mese di maggio corrente è stato prorogato di oltre 12 mesi. Territori e luoghi danneggiati che sono alle prese con l'iter burocratico di risarcimenti e ristori promessi dal commissario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo che lo scorso ottobre in visita a Pesaro annunciò 55 milioni di euro di nuove risorse per i sette comuni in questione da aggiungere ai primi 4 milioni stanziati in somma urgenza. E proprio in tema di alluvioni proprio oggi la Giunta Acquaroli ha approvato la realizzazione di 34 opere in vasche di espansioni e bonifica dei fiumi per un ammontare di 130 milioni di euro. Stanziamenti che sono finalizzati a ridurre al minimo il ripetersi di situazioni drammatiche come quella di settembre 2022 come racconta lo stesso governatore Acquaroli in questa intervista. Oggi è un giorno importante per la regione Macche. Da qualche minuto abbiamo completato la presentazione del piano per la messa in sicurezza della valle del Miesa, del Nevola, del Cesano e del Burano e del comprensorio del Catria. Quel territorio che era stato fortemente danneggiato dalle calamità che si sono verificate il 15 settembre 2022. Momenti drammatici che non scorderemo mai e che ci hanno spinto grazie al contributo del governo nazionale che ha stanziato 400 milioni di euro e che ci ha consentito di fronteggiare prima la sommorgenza e i ristori. In questi giorni partirà anche la seconda fase dei ristori. Dopo i 5-20 mila euro per le famiglie e le imprese arriveremo a derogare i ristori per chi ha subito danni maggiori. Ora stiamo attivandoci per la realizzazione delle nuove infrastrutture, quelle danneggiate, e anche delle infrastrutture che consentiranno la mitigazione del rischio. Questo piano è stato studiato dalla Fondazione Cima con la collaborazione dell'Università di Camerino, dell'Università di Firenze, dell'Università di Ancona, dell'autorità di Bacino e della struttura commissariale. Tendo a ringraziare anche la struttura regionale, la protezione civile regionale e nazionale per il contributo determinato che ci è stato dato. Si tratta di un unicum in Italia, di un piano che per la sua valenza, per la sua importanza, ma anche per la sua capacità e possibilità di essere realizzato, potrà cambiare il destino di territori che hanno convissuto per troppo tempo con la paura degli effetti delle sondazioni dei fiumi e che soprattutto potranno progettare e programmare la loro quotidianità con maggiore sicurezza e maggiore tranquillità. Si tratta di mitigazione del rischio, il rischio non sarà mai rischio zero, ma con queste infrastrutture che verranno realizzate noi potremo garantire assolutamente maggiore sicurezza. 130 milioni di euro, di cui come dicevo 113 garantiti dal governo Menoni per il tramite degli stanziamenti effettuati nell'immediatezza degli eventi calamitosi e 17 per il contributo del Ministero dell'Ambiente. Un'opera importante, ora abbiamo l'indicazione di massima su come poter operare, partiremo nelle prossime settimane con la progettazione e contiamo che entro pochi mesi tutte queste indicazioni si trasformeranno in cantieri. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Urbino dove oggi nelle cortile di Palazzo Ducali è andato in scena il tradizionale Career Day con gli studenti dell'Ateneo che hanno scrutato il loro avvenire lavorativo dialogando con 48 aziende. Amici amici di Rossini TV siamo ad Urbino per l'edizione primaverile, la Spring Edition del Career Day, questo appuntamento che mette in collegamento aziende del territorio e non solo con studenti e laureati dell'Università di Urbino. Un momento fondamentale nel percorso dei ragazzi che si approcciano al mondo del lavoro, un percorso che naturalmente prevede anche degli altri momenti ma la giornata di oggi è una giornata dedicata agli incontri in presenza. È un successo il fatto di essere riusciti a mettere assieme laureandi, studenti e studentesse e imprese. Il fatto che abbiamo dall'anno scorso fatto due eventi, quindi questo primaverile e quello autunnale è anche un segno che c'è. Si sentiva questa esigenza da parte delle imprese che stanno trovando, da quello che capisco, anche qualche difficoltà nel reclutamento di persone da inserire nei propri organici. Quindi questa è un'altra opportunità, gli diamo un'altra opportunità sia alle imprese ma il mio interesse è soprattutto per i nostri studenti e le nostre studentesse. Ne ho fatto tre colloqui, sono andati tutti abbastanza bene, sono felice e penso che sia una bellissima possibilità per i ragazzi questa di potersi interfacciare con più realtà, più ditte, capire cosa cercano, non cercano. Quindi per ora molto bene, sono molto contenta. È interessante perché qui ci sono tante aziende sia del territorio che non e si possono già iniziare magari a stringere dei contatti che possono essere importanti appunto per un futuro. È un dato di fatto ormai che già da qualche anno abbiamo un panorama di aziende che varia dalle realtà locali fino ad arrivare a multinazionali diffuse e conosciute in tutto il mondo e sono loro che vengono a cercarci e apprestano questo tipo di interazione che offriamo loro. Per quanto riguarda i giovani sono sempre più preparati, sempre più motivati e sempre più coinvolti anche nelle attività che noi mettiamo loro a disposizione nei giorni precedenti del Career Day. Workshop, laboratori di orientamento, come rafforzare la propria strategia nell'affrontare il colloquio. Emergono delle volontà da parte loro che vanno nella direzione di arricchire il proprio bagaglio per far sì che vengano offerte anche delle proposte delle aziende innovative e queste le aziende lo percepiscono e infatti emergono continuamente nuove posizioni, nuovi profili e i ragazzi di questo sono entusiasti. Ed ora una curiosità che arriva dal porto di Pesaro dove in questi giorni Fabella mostra di sé uno dei più imponenti yacht mai ormeggiati nello scalo pesarese. Uno yacht di 55 metri da un paio di giorni è ormeggiato al porto di Pesaro negli spazi del cantiere Rossini. Imbarcazione imponente che sta rubando all'occhio degli avventori del porto in quanto si tratta di una delle più grandi barche mai ospitate dallo scalo pesarese. Panfilo straniero è arrivato dalla croata Dubrovnik diretto a Venezia che stazionerà per alcuni giorni a Pesaro per operazioni di refitting per le quali è specializzato il cantiere pesarese. Non a caso i 55 metri di Panfilo sono ormeggiati in buona compagnia di altri yacht da quello di Valentino Rossi a barche provenienti da svariate coste mediterranee che a Pesaro trovano servizi di qualità per limitare la corrosiva usura dell'ambiente marino e mantenere alte prestazioni di navigazione. Restiamo in tema di nautica lo facciamo spostandoci da Pesaro a Fano perché il WiderCat 92 l'innovativo cartamarano realizzato da Wider è pronto a debuttare sul mercato italiano al Salone Nautico di Venezia che si terrà dal 29 maggio. Una premiere italiana che sarà una speciale anticipazione del debutto mondiale previsto al Cannes Yachting Festival del prossimo settembre. Frutto della collaborazione tra Luca Dini Design e il Centro Stile Wider questo 28 metri in vetroresina è il primo esemplare di una nuova serie di catamarani firmati dal cantiere fanese. La cultura quella di palazzo per i cari signoretti che inaugura le visite guidate alle sale allestite dopo il completamento dei restauri. La presentazione dell'attività è prevista per lunedì 3 giugno alle 16 all'auditorio di Palazzo Montani Antaldi. Seguirà l'inaugurazione vera e propria con la cerimonia della dedica delle sale espositive a Costanza Monti, moglie di Giulio Perticari, protagonista nella Pesaro dei primi dell'Ottocento. Vi segnaliamo invece un appuntamento previsto per domani alle 19 a Palazzo Gradari che ospita l'incontro dialogo tra anima, fragilità e corpo. L'obiettivo è riflettere sulla salute e sul benessere della persona con un'attenzione particolare alle fragilità che possono assumere le forme di vere e proprie dipendenze, da quella affettiva a quella alimentare. Interverranno sul tema Don Peppe Fabbrini, la psicoterapeuta Barbara Pasini, la naturopata Simonetta Ranucci, la personal trainer Michela Citarelli e infine la testimonianza di Alessandra Francesconi. Ed ora concludiamo il nostro telegiornale con lo sport perché è vigilia di grandissima sfida per l'Ital Service Pesaro di calcio a 5 che domani alle 19 si gioca la bella di gara 3 per tentare l'approdo in semifinale. Si giocherà al palo olgiata di Roma contro l'Olympus capolista della regular season che Pesaro ha battuto lunedì al palo a Megabox in un emozionante 5-3 supplementari che ha rimesso tutto in discussione dopo la sconfitta 6-1 di gara 1. Chi vincerà domani approderà in semifinale contro la vincente di meta Catania Genzano. In semifinale invece c'è già arrivata l'altra squadra di casa Italia Service, il Loreto Basket che da ieri sera ha conosciuto anche l'avversaria. Sarà il Matelica a sfidare i pesaresi dopo che ieri i marchigiani hanno battuto Ferrentino. Gara 1 di semifinale sarà in trasferta a Casterra e Mondo domenica alle 19 ma non solo Loreto Basket, in semifinale c'è anche un'altra pesarese, vale a dire il Bramante che sfiderà invece la Virtus Roma. E si conclude qui il nostro telegiornale, però proseguono i nostri spazi informativi in questo giovedì sera a cominciare dall'appuntamento che c'è subito dopo il Tg, un approfondimento politico dal titolo La città che verrà, appuntamento che sarà come detto alle 20 sulla strada Urbino Pesaro passando per Vallefoglia, un dibattito intrattenuto dai candidati a sindaco di Pesaro, Vallefoglia e Urbino di centro-sinistra, Andrea Biancani, Palvirucchielli e Federico Scaramucci tenutosi presso l'ex scuola elementare di Trasanni. A seguire alle 21.20 un approfondimento su Marche Multiservizi che ha ottenuto un finanziamento di 27 milioni e mezzo per il rinnovo delle reti idriche, vedremo le strategie di azione della Società dei Servizi per migliorare la rete acquedottistica del territorio. A seguire alle 21.30 andremo invece a conoscere la Startup Weekend, la quarta edizione di questo evento di Riviera Banca. E poi come sempre vi ricordo l'appuntamento con l'informazione locale di Buongiorno Rossini alla nostra segna stampa dei quotidiani locali, vi aspetto domattina in diretta alle 7.20 con le notizie proposte dai quotidiani in questo venerdì 17 di maggio. Si chiude invece qui l'appuntamento informativo di Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.